Visto che non proseguite, quindi quanto ben di Dio sprecato, voglio dire per dire... No, io so che nella squadra, oltre a tanti altri talenti, c'è un signore, chiamiamolo tale, un soggetto, un umanoide, insomma in poche parole, che... No, perché dico questo? Perché c'è un microfono, c'è un microfono che cortesemente ce l'avete già voi. Ecco, ho dimenticato il nome perché sono... Francesco, senza cognome perché hai paura della finanza. No, Carpena. Carpena. Perché c'era stato prima l'amico di Cagliari che cantava al contrario. Lui non è un bipede, è un bimane, cioè nel senso che ha la facoltà di scrivere contemporaneamente contemporaneamente con la destra e con la sinistra sviluppando la... Esattamente, esattamente. È possibile, giusto? Guarda caso. Guarda caso. Lui gira sempre con la lavagnetta, naturalmente, perché raccoglie... Vorrei essere certo che si possa... Cosa vogliamo scrivere? Punto su di te, si può? Punto su di te. Si deve pulire il naso prima... Ho pianto prima a sentire la canzone, sono emozionatissimo. Ho pianto prima a sentire la... Ah, è commosso. Punto su di te. Allora. Pronti? Vai! Vedete, non sta bene neanche lui. Non lo avete trovato. Eh, i talenti. Oh! Ho finito la pubblica. Grazie davvero. Potremmo sia di buon augurio. Grazie, Francesco. Davvero, grazie a tutti. E... Davvero.